Ashtag interviste, questo è un tasto veramente dolente, perché di fronte alle telecamere sono sempre impacciato e non sai mai cosa dire, però bisogna farci l'abitudine e spesso e volentieri vengono fuori degli argomenti molto molto sconclusionati, comunque nel bene o nel male bisogna esserci e io ci sono. Ashtag amicizia nel poker, questa è una bella questione, nel poker si verrà che ci sono tanti amici, in realtà quelli veri ce ne sono pochissimi, comunque l'importante è che ci sia rispetto reciproco e poi dopo tutto ci sta. Ashtag click online, di solito ultimamente sono costretto a giocare nelle ore tarde della notte perché il mio impegno familiare mi impone di portare a letto il mio fabietto e quindi inizio a giocare di solito verso le 10 e mezzo o 11 e faccio tardissimo la notte, cioè quando vinco qualcosa, poi dopo quando si perde a mezzanotte si è tutti a letto. Ashtag ristoranti al top, certo che noi pokeristi siamo bei viziatelli e ogni location abbiamo un ristorante come i marinai nel porto avevano le loro donnine, noi ogni location abbiamo il nostro ristorante preferito. Ashtag Malta, non ero mai venuto a Malta e devo dire che la location è veramente all'altezza, una delle più belle che ci sono in Europa, bell'albergo, cioè l'albergo più vicino al casino, comunque una location veramente di rilevo, una bella poker room e un bell'ambiente, poi in Malta c'è il sole tutto l'anno e questo non guasta.